Rerro 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 ho sixty Rerro 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 App revised la Rerro Ranina Apponello del Roranida Abre Viggeve uru a fai cucchi Pi... ... di sc legado d'arte Raphari è una zoa... ... di scogli di ricordia... ... di scogli... ... non è giù? ... di scogli... 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 ... di scogli qui è la sua... Ha benveno io cerco de... Ah, no vedi, non hai' aerei realizzato con te... ...è uno libro di andare a creare? E tu lui non vai? Di quello che mi ricorda, ma non è qualcosa di vedere... ...e vime un angusica nel mondo... ...è un ultimo caso. ...è un altro caso. ...è un altro caso. Sì, ma l'ho verò. ...è un caso di essere di più... ...è un caso di avere da una grande... ...le di... ...è un caso di rilasciare... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O, voglia, 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 voglia! Doga! Vor… Ninono! Т отizia! Temuto una tossa tramite m struggle! Traga il saluto? Arri je..? Dai, dai, dai. Si ti calde tutti i nostri programmi. Doga una niente molto senza! No, 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 no. No, 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 no Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Non ci sono. Anche la scuola, ci sono un po' cheio della dire. No, non lo so, non lo so. E' un po' cheio, non è un po' cheio del posto. No, non lo so, non lo so. Lo so, non lo so. Perchetto, non lo so. Non, non lo so, non lo so. Non lo so. Adesso, questo è un po' cheio, ci sono un po' cheio di più. Non, non lo so. Voi. Voi, come metto Gerda oma, lei mi sembrava che sta di a riapaccichter? Dio? V*** Mi sono, mi sembravo lanciato? No, 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 no. Ma no, no, non mi sembrava. Cosa è la prima che si gioca? Non ho io, non ho detto mai, no, non mi sembrava? Vabbiamo, invece non è vera. Non mi sembrava, non mi sembrava. No. Che accomciamco, non mi sembrava. Ren, niente! The yogur! Noi, noi... Noi, non è il sangra. Chi è il sangra? Noi, non ci ha lasciato. E non ci è felice? Non è un po' rosso? Noi, non è il sangra? Salto, almeno il sangra è il sangra? Motta una televisione. Non si dice il sangra on offer. Non ci sembra di farlo. Non ci sembra? Brazzlegi? Okruo ha mi vuoi? Hai bai raggi vuoi? Raponchi Raponchi, hai, beti ce sta dimanami? Raggi vuoi? Gita ra? Lei ha messo a lui. Ti sei magari buvete, come mi dai, non sei chiaro Arrr, arbi non. Sì? Sì? Mi sono messi a messi a messi? Ma? Su? Pianassi? Ma? Sì? Ma non mi è messi a messi? Ci sono messi a messi a messi a messi? Sì? Sì? Ho? Ho? Davai Mosulvai, davai. Oh, che c'è? C'è un' Stephan città. Perchè, Giuliani a Gami, gli altri parlano con la mia squadra, che è un' elsa? È un'' firsta, gli altri presidenti, gli altri giorghi. C'è un'ヶica? Allora, ена di achatura, il vivo oggi. Adesso bisogna c�llere, come noi, ho? C'è un'ergo? Adesso si è caduto, era. Non un'appartimento. No un'appartimento, non un'appartimento. Non un'appartimento si resta potente. Qui viene se mettendo con la vacanza... Il riso, un'appartimento. Ci sono un'appartimento, e mi è acibata un'appartimento. Wow... Azzola a fare un risco di più. Un'acqua rubato. Te dimenti non sono capi? O, tu non resta va fare maisola. Tu te b o, ma l'ho accade, mi sentito a fare una volta di un po' a qui invece di uscire? No, ora lo faccio. Ecco, per te dimenti. ehND vabbè sto qua il proprio saltindre non pure l'e��e! ormai potates vuoi stinti prima cosa va è abbastarla con un rimasto po' qua viene해 Tu guarda un'vercata, non è facile, non è solo, non è così. Mi chè qui? Dio, loandro? No, loandro è. No, loandro è nero? No, loandro è. Leco? Che? Che? Noi, no? No. Loro è il bambra da ridotta inizia. Dio? Loandro è? No? No? Eh. E? Lo oh. E? Lo oh! Lo oh! Lo oh? C'è bisogno di ώ dni? Если? Va bene? No. No, no. Voi un 41 Withersi. L'autista Inscreti. Due is a 15ioniro. Ma non ci siano? programazione in scoda. Mi salto che con una待tena? Tu기는 telefon oppresi… ma non posso dare una macchina? E' un po' che vuole un macchino? La macchina è un po' che vuole, non si parlo. Non si parlo. Non si parla so quando ho dato a un telefono. Tu sei a questo? Non si parla a questo? Non si parla a tutti. Non si parla a questo? Ah, ok, ok. Non è un po' chello. Non è un po' chello, non è un po' chello. 0 Lassagge Viva 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 Budro Viva Viva Guzzi 你要 un bel Il Qicchio Lassaggia Lassaggia Viva 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 un libro es bissi perché mi è molto giusto per me è una modesa ma ma sono in gara Gaudro Gaudro mi shouldi Maudro te problemi la? Gaudro Mami smi neanche Voi Gaudro super il mio Gesù regid 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 mi sono non dai no? fai scopri, tu hai scopri? mašina tu hai l'ho chica, gatt! ne ho mi è? oh fuck vieti o no, non si è la unità, non si è la cosa che non mi è la cosa, non si è la cosa, non si è la cosa, non si è la cosa, no, non si è la cosa, non si è la cosa, non si è la cosa, Voi ne ha scosso ho? Voi trobo i celi? Voi ne ha scosso. Hai madre! Tu non ti ha scosso! Non ti ha scosso! Ma vieni tuvo chiesto il tonto di fidu! Che ha scosso il tonto di una maniera di nato? Tu esi un motto in questa? Mi finisca! Nisi che c'è il mondo. E questo? No, no, no! . . . Sì, mamma! C'è me? Sì, mamma! Ma ma, c'è mò di? Che qua p'è che sè, mi lo vissi? Come? Dè, mamma, c'è il trattato... E stonccia, choc, c'è mi saccione? C'è l'essasio... M'è la mia? Ma, ma... Eh, 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 e... Eh, 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 eh... Eh, ah... Eh, eh, eh... Eh, 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 eh... Ma tuyla, tu coni mi choblovi sadariyan? C'è mi choblovi? Beh. Hissam, c'è mi choblovi sadariyan? Haveri esgari da ito. Chez gasone babbukta, artsa liat, vermo uleni. Hissam, ne bambi potet, zarmogitginot? Deyda. Deyda c'e mi? Da, mama. Da, mama c'e mi? Da, bebiya c'e mi? Satsghali. Deyda, deyda, deyda. Satsghali bashi. Milyoneri kiya. Ma graberam, ci metzi khobre bakonu? Loto khomar gueta maša, Loto. Gul izgada sa, olé, burad. Ara, pul, duze. Bola, pul. Milyoneri kiya. Milyoneri kiya. Milyoneri kiya. Oh, no, 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 no. No, 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 no! C'è il tipo di, c'è il tipo di rile split? C'è il tipo di. Confetto e non chiesti. Ah si non chiesti? No è un po' è il tipo di... Magari slogani mi vogliono. Magari! Non mi spilette, slogani, slogani! ...Ighi dà che tu non mi vissi, non sei ma che cosa mi fa trova di tutto! Magari, magari, slogani! Nia ti ten spessi che tu non gli idioti maschi, ma sa che tu there sa che io mi voglio fanno un pecorolo sera! ...A che non ti so? No, non ti so? ...Ighi dà che tu non mi vissi. ...Mai, non mi vissi. Magari, non mi vissi. ...Oui, inghi dà che... ...Crof! ...Magari, voglio! Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno... No! No invece mi ha riconcito a fare una questione... A tutti quanto è il mito? Non, è vero, siamo tutti diciamo che noi usare tagliate in una kata da non lo braccio... .... ...... .. 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 ... .. .. .. Che cosa che ha fatto, non l'aserciato? Non cosa vuoi dire, non l'aserciato nato. Come, 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 come! Come, 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 come! Via, via! Via, 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 via! At пробuete, un'accusa! Nibus! Magda! Vestale ma! Vestale ma! No, no, no! Ecco! Ecco! Ecco, ecco!